Benvenuti al Bed Breakfast Merigellina, io sono Ciro, volevo mostrarvi i nostri appartamenti. Partendo dall'angolo cottura che è attrezzata, qui abbiamo tazze e bicchieri, pezzurame, piatti, frigo, fornelli. Passiamo al nostro ampio bagno. Prima di tutto abbiamo la pulizia impeccabile, una pulizia impeccabile, un'ampia doccia con kit di cortesia. Seguito dal phon è tutto l'occorrente necessario. Passiamo alla zona di giorno. La zona di giorno è composta da un divano molto comodo italiano soprattutto. A seguire abbiamo riscaldamenti d'inverno condizionali d'estate. Abbiamo un ATV di circa 540. Sa conclusione. Allora sono andate. Allora provincia, Allora. Alloraров Film un letto matrimoniale super comodo con due armadi e molto soprattutto comodo negli spazi grazie per l'attenzione e spero di ospitarvi presso al nostro bene grazie per l'attenzione